Martedì sera un incendio all'interno di un locale dove si stava celebrando un matrimonio ha ucciso almeno 113 persone, ne ha ferite altre 150, ad Al-Hamdaniyah, un distretto abitato principalmente da cristiani nella provincia di Ninive, nel nord dell'Iraq. Si ipotizza che l'incendio si sia sviluppato dopo l'accensione di alcuni fuochi d'artificio. Secondo la protezione civile i pannelli decorativi della sala erano composti da materiali altamente infiammabili che non rispettavano gli standard di sicurezza.